Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in FIPILI e in tutta la rete autostradale toscana. Sulla FIPILI restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni per lavori in corso. In A1 panoramica per lavori fino alle 6 di lunedì 19 aprile saranno chiusi i tratti compresi tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e tra l'allacciamento con A1 direttissima e Pian del Voglio in direzione Bologna. Ancora in A1 tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma, materiali dispersi per perdita accidentale. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori chiusa l'uscita San Donato verso Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!